tomba intatta il corridoio non conteneva niente la porta era chiusa con buone pietre oltre le quali si trovavano a sinistra entrando successivamente due paia di sandali due coffe ben lavorate con la fune con le quali erano sospese ad un palo che però vi fu lasciato vicino sta un supporto di lampada a forma di loto appoggiati alla muraglia estesi al suolo vicino e intorno alle coffe rami di perse e di sedano selvatico di fronte sull'altra parete un mucchio di pietre avanzate nella costruzione della porta un sedile quadrato un letto grande sopra cui è avvoltolata una bella stuoia un sedile rotondo a tre gambe ricurve sopra il quale è una paniera con un buco rotondo sul fondo altro sedile a quattro gambe di leone su cui è steso un pezzo di tela a pennacchi dinanzi è posato uno sgabello il sedile è di paglia intrecciata sul sedile quadrato è dipinta l'iscrizione che è pure ripetuta sullo sgabello questo è camposanto il podcast dedicato a chi ama i cimiteri io mi chiamo giulia de pentor e adoro leggere le storie scritte sulle lapidi osservare le fotografie sbiadite dal tempo immaginare le vite degli abitanti di queste immense città ultraterrene in questo podcast vi accompagnerò alla scoperta dei cimiteri che più mi hanno colpito raccontandoveli attraverso i miei occhi e le mie sensazioni benvenute e benvenuti a questa puntata speciale di camposanto una puntata che è stata realizzata grazie alla collaborazione con il museo egizio di torino e che ho deciso di regalarvi per questo natale così strano prima di addentrarci nell'argomento di oggi una brevissima avvertenza questo episodio contiene un'intervista che per una questione di tempistiche è stata tagliata e adattata alla durata media delle puntate di camposanto dato che però l'argomento merita di essere approfondito in tutti i suoi aspetti e dettagli nel mio account speaker troverete l'audio integrale dell'intervista all'ospite di oggi e tutti i link come al solito sono nella descrizione dell'episodio e nel mio sito camposantopodcast.com adesso possiamo iniziare giunti al diciannovesimo appuntamento con questo podcast dovreste ormai aver capito che le storie che mi intrigano di più sono quelle un po' inosservate e che vengono scoperte quasi per caso la tomba o meglio le tombe che visiteremo oggi rispondono più o meno a entrambi questi requisiti e a raccontarcele sarà il dottore enrico ferraris curatore del museo egizio e responsabile del programma di analisi dei reperti dei quali stiamo per parlare se anche voi siete pronti per partire la macchina del tempo è accesa e programmata egitto 1400 avanti cristo al contrario di quello che forse alcuni di voi stanno pensando però oggi non andremo a visitare la sfarzosa tomba di un faraone bensì quella di un architetto e di sua moglie che si chiamavano kha emerit due persone ordinarie la cui sepoltura trovata quasi per caso rappresenta una testimonianza preziosissima della vita della gente comune dell'egitto di 3400 anni fa pensate 3400 anni fa la meta del nostro viaggio straordinario è tebe conosciuta oggi come luxor che nel nuovo regno è la capitale e sorge su la riva orientale del nilo il faraone risiedeva lì e dove c'è il palazzo reale dove c'è il faraone in egitto nella storia egiziana là c'è anche la necropoli reale e il sole sorge oriente tramonta occidente e là dove tramonta il sole ovviamente fu identificata la regione dove si andava a riposare o si andava a morire per poi rinascere all'alba successiva sulla riva occidentale del nilo all'altezza di tebe si collocavano le necropoli degli aristocratici le necropoli anche dei privati ma soprattutto le necropoli appunto reali chi ha costruito le tombe della necropoli tebana nel nuovo regno mi conto al dottor ferraris esistevano delle squadre di artigiani specializzati che scavavano livellavano e decoravano la roccia queste squadre però non abitavano in una casa propria sparpagliati appunto nella valle tebana decisero infatti i faraoni all'inizio proprio del nuovo regno di costruire un villaggio molto molto vicino alla valle dei re questo villaggio oggi è conosciuto con il nome di teire il medina e si colloca sulla riva occidentale tra la montagna tebana e kurnet murai che è una collinetta dunque è oggi visitabile perché il villaggio è ancora molto ben conservato perché a differenza di tanti altri siti in egitto questo villaggio diciamo che è stato costruito con uno specifico obiettivo cioè quello di ospitare gli artigiani e le loro famiglie in modo tale che potessero recarsi al lavoro più agevolmente e fossero come dire concentrati e collocati appunto presso i cantieri reali il personaggio di cui parliamo oggi è proprio stato un caposquadra e dunque a lui probabilmente è dovuto alla costruzione di almeno due tombe anche se non abbiamo certezza ma cronologicamente deve essere stato responsabile per almeno la costruzione di un paio di tombe dei caoni appunto della sua epoca il ruolo di caposquadra vuol dire che era ovviamente la figura più rilevante della del villaggio di dere medina era colui che era più in contatto anche con gli ufficiali della del palazzo reale che periodicamente venivano a visitare l'andamento appunto dei lavori e dunque non sorprende che il corredo funerario che fu poi trovato nella sua tomba intatta rappresenti davvero una rarità oltre che una meravigliosa manifestazione di dei beni di cui era in possesso una figura non aristocratica ma certamente una un ricco borghese potremmo dire potremmo dire oggi la tomba di ca e di sua moglie merit viene scoperta nel 1905 dall'allora direttore del museo egizio ernesto schiaparelli che sta scavando appunto nel cosiddetto villaggio degli operai di dere medina schiaparelli abbia dunque degli scavi importanti sul villaggio e soprattutto sulla necropoli trova la cappella funeraria di ca che per la verità era visibile inizia a cercare l'intorno dato che lui era un egittologo e sapeva che probabilmente la tomba doveva trovarsi subito sulla verticale della cappella inizia a cercare disperatamente l'ingresso a questa a questa tomba non trova niente a questo punto sposta il cantiere di scavo un po più a nord e raggiunge perciò la necropoli la parte della necropoli più settentrionale nel tentativo di vedere se per caso sotto il livello dove si vedevano effettivamente delle cappelle funerari c'erano magari delle altre tombe più antiche più precedenti nel fare questo lavoro raggiunge effettivamente una spaccatura nella roccia che si scoprirà essere effettivamente l'ingresso della tomba di canti è il 15 febbraio del 1905 e iniziano effettivamente ad andare giù per questo pozzo e si ritrovano davanti praticamente a una porta di pietre montate a secco che si trovano al fondo di una scalinata abbattono questo muro si trovano di fronte un altro pezzo di corridoio chiuso di nuovo da un muro a secco e passato anche questo un secondo corridoio questa volta con alcuni oggetti tra cui un letto che si trovava subito sulla sinistra per chi entrava nel corridoio e soprattutto un paio di ceste di vimini intrecciate con delle corde molto grandi che erano state trasportate lì con un palo con dei bouquet di fiori delle grandi infiorescenze totalmente essiccate ovviamente ma ancora perfettamente leggibili ancora lì insieme addirittura un paio di sandali il corridoio però non terminava la tomba anzi in realtà sul fondo di quest'ultimo corridoio c'era una porticina di legno che sembrava veramente dalle foto sembrava fatta il giorno prima che viene rimossa e a quel punto schiaparelli e la sua squadra si ritrovano di fronte a veramente il sogno di qualunque archeologo dell'epoca perché si trovano di fronte a una camera funeraria completamente zeppa di oggetti del corredo funerario appunto di cari di sua moglie merite fermiamoci un attimo e cerchiamo di immaginare lo stato d'animo di ernesto schiaparelli dei suoi colleghi degli oltre 100 operai che per più di un mese rimuovono una cosa come 15 metri di terra calcare e detriti per arrivare alla tomba che trovano poi completamente intatta la sepoltura è rimasta congelata nel tempo per più di 3000 anni dal momento in cui è stata posata l'ultima pietra all'ingresso a quel fatidico 15 febbraio 1905 che cosa avranno provato emozione paura ansia le loro mani avranno tremato nel momento in cui si sono resi conto della vastità del corredo che stavano per scoprire le parole che vi ho letto all'inizio di questo episodio sono le primissime impressioni messe nero su bianco da francesco ballerini stretto collaboratore di ernesto schiaparelli leggere il suo diario originale ha tolto il fiato anche a me prima di entrare nel sepolcro di ca emerite assieme a schiaparelli ballerini e tutti gli altri è bene comprendere un po di più delle vite di questi due personaggi vissuti 3400 anni fa il professor ferraris ha già anticipato qual era il mestiere di ca architetto capomastro ci ha spiegato che si occupava di costruire le tombe per i faraoni e che merit era sua moglie che cos'altro conosciamo della loro vita quotidiana della biografia di ca e di sua moglie merit purtroppo non sappiamo moltissimo dalla tomba abbiamo delle informazioni abbastanza ridotte che riguardano più che altro la loro discendenza ma non informazioni riguardanti i genitori non abbiamo molti elementi che ci parlino della loro esistenza precedente a quella che ci viene testimoniata dalla cappella funeraria la cappella funeraria è una celebrazione della vita normalmente sono decorate all'interno con delle scene di festa di banchetti che vengono tenuti dai proprietari della tomba insieme ai loro amici e loro parenti ed è dunque questo che la cappella funeraria vuole raccontare all'interno dunque non sorprende che vengano rappresentate solitamente le figure di maggiore importanza nella vita dei due coniugi tra questi ovviamente abbiamo due figli maschi e una figlia femmina poi ci sono diversi amici ma soprattutto dei colleghi di ca in particolar modo proprio sul fondo della cappella è rappresentato quello che probabilmente era stato il capo squadra per cui ca aveva lavorato e che probabilmente doveva aver avuto quasi un ruolo di mentore per lui e che riceve un posto d'onore all'interno della rappresentazione della cappella funeraria un altro dato che possiamo rilevare della biografia di ca e di merit riguarda proprio uno dei figli per la precisione il figlio maggiore che nella tomba è rappresentato già adulto mentre invece l'altro figlio maschio è rappresentato come un bambino ma il figlio maggiore ha oltre al proprio nome indicato il titolo di maheru che in egiziano antico vuol dire giusto di voce un titolo che è associato esclusivamente ai defunti dunque questo significa che nella tomba probabilmente la tomba era quando è stata iniziata ha iniziato a decorarla e probabilmente possiamo immaginare il figlio maggiore per ragioni che ci sono del tutto ignote deve essere evidentemente morto per cui hanno aggiunto poi il titolo di maheru per indicare appunto questa condizione il figlio maggiore di ca e merit dunque era morto prima della costruzione del sepolcro e quindi prima dei suoi genitori non bisogna però stupirci troppo di fronte a questo decesso che giorni nostri definiremmo davvero prematuro la vita media era di circa 35 anni 30 35 anni l'incidenza della morte per esempio delle donne era ulteriormente accentuato rispetto agli uomini per via delle morti per parto o per le complicazioni post partum e poi naturalmente ci troviamo in un'epoca che non aveva antibiotici e dunque l'idea che primo genito di ca possa essere indicato come morto non deve particolarmente sorprenderci perché probabilmente rientra appunto nella statistica dell'epoca per quanto riguarda invece ca e merit non abbiamo praticamente informazioni riguardo ai loro genitori non sappiamo niente del cursus honorum diremmo prendendo a prestito un termine al mondo della storia romana di ca il nome del padre tuio è indicato molto marginalmente su libro dei morti ca che appunto è stato trovato all'interno della tombe di cui parliamo brevissimo per cui non abbiamo praticamente molte notizie quello che invece possiamo ricostruire è sicuramente come poteva vivere un personaggio come ca a vero e medina grazie non a dei testi che ce lo raccontano non a pitture che ce lo mostrano ma direttamente attraverso la materialità degli oltre 460 oggetti che sono stati trovati intatti all'interno della tomba ed eccoci quindi arrivati al momento fatidico stiamo per varcare la soglia della sepoltura di ca e di merit che cosa si sono trovati schiaparelli e i colleghi davanti agli occhi e perché il ritrovamento di questo corredo è considerato così importante nella storia dell'archeologia scatole piccole cassette policrome ammassate l'una sopra l'altra e poi dei tavoli con sopra dei panni a terra dei vasi decorati in ceramica in alabastro persino degli oggetti in metallo contenitori prevalentemente in metallo ma soprattutto già si intravedeva la sagoma del sarcofago di merit e poi entrando all'interno schiaparelli ha trovato il resto del corredo con il sarcofago più grande appunto di ca che si trovava sul fondo della camera funeraria cioè sul lato breve con una montagna di panni e di offerte alimentari collocate sopra dei tavolini di vimini e poi dei tessuti e soprattutto una sedia con lo schienale che nella iconografia egiziana ma soprattutto nell'abitudine egiziana era la sedia padronale dunque immaginate una sedia con lo schienale al sopra una statuetta che rappresenta K in piedi con la posizione dei piedi che indica che sta camminando sta avanzando e ha una ghirlanda di fiori di loto al collo che sono un fiore solare che indica appunto la rinascita e diciamo che nel suo essere una composizione insolita per quello che noi conosciamo ma ricordiamoci che di tombe private non sono state trovate tante tanto più intatte come questa sembra quasi che chi ha composto insomma questo corredo nel disporlo all'interno della stanza abbia veramente voluto in qualche modo rappresentare il proprietario come dire idealmente seduto sulla sua sedia a osservare a guardare l'ingresso della camera funeraria. Che cosa stava osservando K? Mi piace immaginare che fosse in attesa che la sua tomba venisse scoperta dagli archeologi del museo di Torino e che fosse lì seduto ad aspettare di poter raccontare la sua storia anche se ovviamente non è così il corredo funerario di Ka Emerit che lo ripeto è straordinariamente unico per la sua portata e per chi è stato ritrovato intatto ci racconta comunque una serie di storie eccezionali. Gli egizi portano nella loro tomba i propri sandali i mobili della propria casa come vi dicevo è proprio una specie di trasferimento degli appartamenti in una nuova casa questa volta una casa eterna e nei testi funerari noi spesso leggiamo questo invito che viene fatto al defunto al mattino di svegliarsi di lavarsi di vestirsi di prepararsi e di consumare poi il pasto mattutino insieme ai propri cari e dove lo fa? All'interno della cappella funeraria. Dunque nel corredo noi abbiamo dei mobili tra questi mobili proprio i due letti di Ka e di Emerit poggia testa e poi tante cassette policrome di legno che servivano a tenere oggetti tessuti che rappresentano dal punto di vista economico probabilmente l'investimento più importante che Ka ha fatto sul proprio corredo. Stiamo parlando di oltre 131 elementi in lino 50 delle quali sono dei perizomi una ventina di tuniche e poi degli scialli e dei tessuti frangiati e stiamo parlando di una varietà di materiali che comprende il legno il bronzo tessuti in lino e ovviamente tutta una serie di altri oggetti soprattutto anche materiali organici come delle creme probabilmente utilizzate quasi come creme emollienti a base di cera d'api ci dicono le analisi contenute dentro dei vasi in alabastro e poi naturalmente c'è tutta la parte del cibo parte del banchetto funerario che fu consumato di fronte alla tomba il giorno dei funerali e secondo quello che era una ritualità comune all'epoca dei cibi all'interno di contenitori come dei piatti ci sono appunto delle ipani che appunto sono distribuiti su dei tavolini ci sono addirittura due crogioli di bronzo con ancora sul fondo del materiale residuo probabilmente delle zuppe mentre invece un'altra parte di questi alimenti sembrerebbe essere un po più pensata per essere stoccata in una sorta di dispensa e sono tutte sono carni sotto sale contenuta all'interno di grandi anfore ho avuto la fortuna di vedere qualche foto che è stata scattata all'epoca del ritrovamento della tomba anche se le immagini sono in bianco e nero riesco a immaginare i colori sgargianti impolverati dalla sabbia del deserto e del tempo vedo vasi azzurri stoffe cangianti e su pellettili dorate e mi chiedo quali sono gli oggetti più particolari ritrovati nelle sepolture di ca e di merit una cassetta in particolare che è veramente curiose che noi amabilmente chiamiamo il beauty case di merit perché è una cassetta apparentemente comune ma all'interno ha delle dei compartimenti sono proprio delle divisioni con delle paretine di legno all'interno della cassetta che contenevano delle ampolline dei piccoli vasetti in faience in vetro colorato in alabastro in corno in metallo e che molto probabilmente conservavano delle essenze profumate o comunque qualcosa diciamo materiali che servivano appunto alla cura della persona oltre a questo un altro contenitore davvero curioso e davvero unico al momento nella sua nella sua forma perlomeno non la sua funzione è una specie di baule verticale su quattro piedini più o meno alto un metro e cinquanta a sezione quadrata dunque immaginatevi un parallelepipedo però posto verticalmente su quattro piedini e all'interno ci sono due stanghette di legno sono fissate appunto attraversano insomma questo questo baule e servivano per tenere in sospensione la parrucca di merit e la parrucca è perfettamente conservata è una parrucca fatta di capelli umani non sappiamo se appartengono effettivamente a merit non possiamo saperlo perché anche questi sono dei ritrovamenti abbastanza rari e non abbiamo molte occasioni di confronto quello che però possiamo sapere possiamo dire è che l'utilizzo delle parrucche in egitto che vediamo sempre addosso no agli egizi quando sono a delle feste dei banchetti o comunque in occasioni di convivialità erano davvero degli oggetti di che manifestavano uno status sociale gli egizi si tenevano solitamente si radevano il corpo e si tenevano i capelli probabilmente molto corti per permettere una più facile pulizia del corpo e una minore possibilità di infestazione di parassiti e però ovviamente in occasione di convivi e situazioni sociali importanti di feste eccetera indossavano queste parrucca quello che anche colpisce molto di questo corredo sono gli oggetti che appartengono a K e che sono oggetti che si riferiscono al mondo del lavoro ovvero sia al lavoro che faceva K ci sono dei trapani per esempio c'è un trapano ad arco c'è una una cetta usata nell'ambito della carpenteria un cubito pieghevole allora il cubito è l'unità di misura degli egizi quella standard degli egizi e corrisponde a circa 50 centimetri quello di K è un cubito pieghevole perché effettivamente è composto da due elementi in legno tenuti insieme da un anellino che poteva essere ripiegato e messo dentro un astuccio di cuoio anche questo preservato che possiamo immaginare veniva appunto legato alla cinta e questo cubito proprio ci porta a un'altra categoria di oggetti che è stata trovata nella tomba veramente eccezionali che sono dei doni come facciamo a sapere che sono dei doni perché questi oggetti e abbiamo ad esempio dei contenitori in bronzo delle coppe portano il nome di altre persone alcune volte si capisce benissimo che è proprio un dono fatto apposta in altri casi invece si tratta di oggetti verosimilmente appartenenti al donatore insomma che ha deciso però di regalarlo a K. Questo è il caso ad esempio di una scacchiera che prende il nome in antico egizio di Senet ed è un parallelepipedo che sulle facciate maggiori ha una suddivisione in caselle si poteva giocare a due giochi a seconda della faccia del parallelepipedo che si utilizzava. Ora questi doni potrebbero essere avvenuti effettivamente mentre K. era in vita ma non dobbiamo escludere che parte di questi doni potessero anche avvenire proprio appositamente per il funerale ovvero sia amici, parenti o chi voleva in qualche modo partecipare al funerale, partecipare, essere presente in qualche modo nella vita ultraterrena di K. Emerit desiderava lasciare un proprio oggetto in qualche modo riconoscibile come parte del corredo funerario. Come il dottor Ferrari si è ribadito più volte, nelle sepolture egizie venivano portati tutti gli oggetti che erano serviti ai defunti mentre erano in vita, in preparazione del rinnovamento e dell'esistenza eterna. Ma quindi qual è la concezione della morte per gli antichi egizi? Per spiegarlo è prima indispensabile comprendere come il mondo è stato creato. La massima aspirazione ultraterrena di un egizio è quello di tornare a vivere la vita che faceva prima o meglio di poter continuare a partecipare di questo mondo. Però per spiegare quest'idea credo sia importante mettere a fuoco brevemente qual è l'idea che un egizio poteva avere del mondo in cui viveva o meglio cosa credeva che fosse il proprio mondo. Allora secondo i testi funerari soprattutto che ci tramandano queste tradizioni il mondo in cui noi viviamo è un mondo creato appositamente dalle divinità a partire però da un oceano di tenebra e di materia indifferenziata chiamato Nun. Ora questo oceano Nun è veramente un oceano di tenebra dove non esisteva niente. A un certo punto secondo alcuni miti il dio Ra, il dio del sole appunto, si solleva da questa massa d'acqua, questa scintilla incandescente si solleva da quest'acqua e asciuga una piccola porzione dell'oceano primordiale che diventerà la base d'appoggio per il suo piede dove lui poserà appunto il suo piede dando inizio alla creazione del mondo che noi conosciamo. Il mondo in cui viviamo per gli egizi è però l'equivalente di una goccia di luce all'interno di un oceano di tenebra che continua ad esistere là fuori e l'idea che questa goccia di luce sia continuamente erosa dall'oceano primordiale che la circonda da tutti i lati nel tentativo di riassorbirla in sé è secondo gli egizi un po' una spiegazione della ragione per cui nulla a questo mondo sia eterno, tutto si consumi, tutto sia oggetto di un continuo decadimento, perciò gli esseri viventi invecchiano e muoiono, le cose si sfaldano, il tempo interviene e distrugge ogni cosa. Da qui anche però l'idea della necessità che il dio creatore, il sole, rinnovi la creazione ogni giorno, perciò il sole nasce, invecchia durante la giornata, diventa anziano e muore al tramonto e ripiombato il mondo nelle tenebre della notte il mondo vive una rigenerazione completa al mattino seguente quando il sole nuovamente, rievocando proprio quella emersione dalle acque delle tenebre, all'alba sull'orizzonte lui si solleva e dà vita nuovamente al creato. Da qui anche l'idea che gli egizi hanno del sonno che è una sorta di fratello minore della morte, nel senso che è qualcosa di molto vicino alla morte dal quale però ci si risveglia ristorati, rigenerati. Se il sonno quindi è il fratello minore della morte e ci permette di risvegliarci rigenerati, la morte allora che cos'è? La vita eterna è qualcosa che si raggiunge attraverso un processo di costante trasformazione, si vive per sempre non perché si dura per sempre ma perché ci si continua a trasformare così come si continua a trasformare il creato. Per questa ragione è importante, fondamentale che il defunto possa salire a bordo di questa barca solare e per farlo deve attraversare l'aldilà e sottoporsi al tribunale del dio Osiride, il dio appunto dei morti, e di fronte al dio Osiride il cuore del defunto viene pesato, messo sul piatto di una bilancia, mentre sull'altro piatto della bilancia viene collocata una piuma che è simbolo della dea Maat, che è la dea della giustizia, o più in esteso è la dea della armonia, dell'armonia cosmica. Il defunto è chiamato a pronunciare quella che noi definiamo una confessione negativa in cui lui dice non ho procurato dolore, non ho rubato, non ho ucciso, e mentre dice questa formula se sta dicendo il vero il suo cuore rimarrà in perfetto equilibrio sulla bilancia con la piuma della giustizia, in caso contrario invece risulterà più pesante. Allora nel primo caso se dice il vero effettivamente al defunto verrà dichiarato maheru giusto di voce, cioè ha detto le cose corrette, ha detto le cose in maniera giusta, allora verrà accolto effettivamente nell'aldilà e dunque avrà diritto a salire sulla barca solare e vivere dunque di questa continua rigenerazione. In caso appunto il cuore risultasse più pesante dunque non si è detto il vero e dunque non si è vissuti secondo le regole di Matt, ebbene è prevista la distruzione, la cosiddetta seconda morte, cioè la distruzione dell'anima che viene divorata da Amit. Un essere ibrido che è composto da la figura di un ippopotamo, di una scrofa e di un felino, probabilmente una sorta di leopardo, e questo se mi passate una considerazione così personale è un altro aspetto piuttosto interessante da un punto di vista concettuale. Immaginiamo le religioni monoteistiche, bene o male, prevedono comunque sempre un'esistenza, poi se sei stato cattivo vai all'inferno e lì vivi le pene dell'inferno appunto eternamente, ma comunque continui ad esistere. Qui invece siamo di fronte a un concetto di annientamento che non è neanche facile da, se ci pensate, non è facile considerarlo, cioè da sé, e poi se mi annientano che cosa c'è dopo? Non c'è niente perché sei annientato, per cui è un concetto anche difficile da isolare e molto interessante che sia presente all'interno della riflessione egizia sulla vita ultraterrena. Tutto, quindi, dipende da questa cerimonia al cospetto del dio Osiride, vita eterna e continua rigenerazione oppure il nulla assoluto. Ma c'era un modo per assicurarsi che la pesatura andasse bene e che il cuore fosse più leggero della piuma? Il libro dei morti, che è una compilazione di formule che venivano trascritte su papiro e portate appunto poi nella tomba in modo tale che il defunto ne potesse approfittare ogni volta che ne aveva bisogno. Ebbene, tra queste formule c'è il capitolo 30 che invece è la formula per impedire al proprio cuore di testimoniare contro il suo proprietario, cioè per dirvela, per farvela breve, in questo modo il cuore non sarebbe mai risultato più pesante di Matt e il defunto avrebbe così. Qualunque cosa avesse detto, qualunque cosa avesse fatto, avrebbe avuto accesso all'aldilà. Non deve sorprendere questa cosa, non è uno sviluppo della cultura egizia o una banalizzazione, perché siamo di fronte ad una civiltà che riteneva, dato che si era tutti uomini e dei sulla stessa barca, gli dei avevano comunque trasferito, condividevano, malgrado la loro posizione di preeminenza totale, condividevano tuttavia con gli umani la possibilità di adottare la magia, ovvero sia la capacità di intervenire sul creato con mezzi, come dire, sovraumani potremmo dire, e questo proprio attraverso la conoscenza dei rituali, la conoscenza delle formule. Continuando a parlare con il dottor Ferraris della civiltà egizia e del rapporto degli egizi con la morte, con la vita e con i rituali magici, scopro che esisteva un periodo dell'anno in cui il confine tra il mondo terreno e il mondo ultraterreno si assottigliava. Questo periodo coincideva con la metà della stagione estiva, più o meno a maggio, ed era anche il periodo in cui la natura si risvegliava e si rigenerava. Il simbolismo, anche qui, è evidente. È difficile non cogliere il parallelismo con il sole che ogni sera muore e che ogni mattina rinasce e si rigenera. È proprio per questo che gli egizi celebravano in questo periodo una grande festa, chiamata Festa della Bella Valle. La celebrazione consisteva in una processione che partiva dal tempio di Amon-Ra a Tebe. Le statue di Amon-Ra, della compagna Mut e del figlio Consu, venivano caricate su una barca che attraversava il Nilo e venivano poi portate presso i templi funerari dei faraoni. La popolazione, immaginatevi la popolazione di Tebe in festa che transitava appunto, passava al Nilo e andava nelle necropoli dei faraoni a onorare i faraoni defunti, a portare offerte. Era un momento davvero di festa, dove si consumavano bevande, cibi e poi una volta tra l'altro partecipava anche il faraone, la famiglia reale, dunque veramente l'apoteosi davvero del momento di grandi celebrazioni. Dopodiché le persone, le famiglie si recavano presso le tombe, le necropoli, dove erano i propri cari e qui consumavano l'intera giornata in una forma di picnic, diremmo oggi noi, consumando appunto, bevendo, mangiando, facendo festa, idealmente presso le cappelle funerarie, quel gazebo, quel gazebo in festa con queste tende colorate idealmente che rappresentano le cappelle funerarie, incontrando e ritrovandosi spiritualmente con i propri defunti che, attenzione, non erano pensati come appartenenti ad una dimensione sganciata dall'al di qua. Il legame tra al di qua e al di là è un legame, veramente un cordone umbilicale, il defunto per sopravvivere nell'al di là ha bisogno della sua famiglia nell'al di qua, affinché, perché ha bisogno di tre cose fondamentali, uno di una tomba, la seconda cosa è che qualcuno ricordi il suo nome e questo lo può fare solo la famiglia e, giusto per stare sicuri, il nome viene anche inciso nella tomba in modo tale che possa rimanere in eterno. E tre, e questo è più indicativo forse, è necessario che al defunto vengano portate delle offerte, perché i bisogni fisici di una persona che vive nell'al di qua continuano a essere tali anche nell'al di là. Lo spirito ha bisogno di ricevere energia, ha bisogno di essere alimentato e soltanto attraverso questo insieme di cose, il ricordare il nome, il portare offerte, usare la tomba come catalizzatore perché queste due parti possano essere, raggiungere il defunto, sono assolutamente essenziali. Dunque, queste festività, la festa della Bella Valle, vediamo, è addirittura un assottigliamento di una barriera già estremamente permeabile rispetto ai nostri canoni contemporanei, in cui effettivamente è possibile ricongiungersi ai propri defunti, continuare a partecipare della bellezza di un creato che gli egizi non hanno smesso mai di amare, ovvero sia la loro terra, l'Egitto. Il confine tra il mondo dei morti e quello dei vivi, quindi, è molto sottile. C'è giunta testimonianza di numerose lettere ai defunti, così vengono chiamate, che venivano lasciate sulle tombe dei parenti morti. In queste lettere, non solo i viventi chiedevano aiuto ai loro cari, ma davano per scontato che lo spirito del defunto avessi in effetti la possibilità di agire e di intervenire nelle faccende terrene. Mi sento davvero fortunata per aver avuto l'opportunità di collaborare con il Museo Egizio di Torino. Devo ammettere che prima della mia intervista al dottor Ferraris, le mie conoscenze sull'antico Egitto erano piuttosto superficiali e si fermavano alle nozioni che avevo studiato a scuola. Le piramidi, la spinge, la piana del Nilo, il le maledizioni dei faraoni e poco altro. Avevo preparato una lista di domande, ma ho scelto di lasciar parlare a ruota libera il professor Ferraris. Mi è uscito un meraviglioso viaggio dal quale ho davvero fatto fatica a ritornare indietro. Quando mi sono trovata a dover aggiustare l'intervista per il podcast, mi è davvero dispiaciuto ed è per questo che, come vi dicevo prima, ho deciso di lasciare l'audio originale della mia chiacchierata con il professore a disposizione nel mio account Spreaker. Vi assicuro che vale la pena di ascoltare tutto dall'inizio alla fine. Anche questa puntata è finita e io ancora non riesco a riprendermi dall'emozione che penso abbiano provato Schiaparelli e i suoi colleghi sulla soglia della tomba intatta. Ka e Merit non erano dei faraoni. Erano benestanti, certo, il corredo ritrovato nella sepoltura lo dimostra. Però erano persone comuni che lavoravano e avevano una famiglia. La loro vita è straordinaria nella sua normalità e sono proprio queste le storie che piacciono a me. Così come mi piace scoprire che in altre civiltà e in altri tempi la morte non era spaventosa e vendicativa e anche il famigerato di Osiride poteva chiudere un occhio se il cuore non era abbastanza leggero. Bastava che il defunto recitasse la formula giusta del libro dei morti. Avete ascoltato Camposanto, un podcast scritto, prodotto e condotto da me, Giulia De Pentor. Questo episodio speciale è stato realizzato con la collaborazione del Museo Egizio di Torino. Desidero nuovamente ringraziare il dottore Enrico Ferraris e Miriam Corjat-Mecho dell'Ufficio Stampa del Museo, che mi ha aiutato a organizzare l'intervista. Io per oggi ho finito. Ci sentiamo a gennaio 2021 per una nuova stagione di Camposanto. Ciao!